Ciao Raffaella, come mai siamo qua oggi? Siamo qui oggi perché anche noi abbiamo aderito a questa campagna e abbiamo presentato insieme alle altre associazioni come Italia Nostra, Milano, Londra e Dovest la richiesta di vincolo per l'Omago e quindi si può dire affermare insieme agli altri. Ok, e come mai è d'accordo ad estendere questo vincolo? Noi ragazzi, siamo di Italia Nostra, cioè facciamo tante battaglie e questa è una delle tante e speriamo di riuscirci anche questa volta. Va bene, grazie mille. Ciao Marco, perché sei qua e perché sei venuto proprio alla Maura oggi? Perché sono qua perché mi sembra giusto difendere gli spazi verdi che ci sono qui nel quartiere. Uno, due perché è stupido buttare giù lo stadio di San Siro per fare un altro stadio che ho con lo spazio verde ed è inutile perché c'è già anche un progetto di ristrutturazione che tiene conto anche di tutte le caratteristiche richieste dalle squadre, perciò se c'è già quello che costa anche meno, se tu puoi spendere anche i soldi. Io abito qua vicino a meno di un chilometro e vorrebbe dire per me stare nelle polveri, tutte le ristrutture dello stadio, aumentare il traffico di macchine e tutto, perciò mi sembra che sia giusto fare in modo che non vengano fatte queste cose. Grazie mille! Ciao! Grazie per essere venuto, come mai sei qua oggi? Sono qua per firmare questa petizione per evitare ulteriore cemento in questa zona che sono trasferiti apposta perché c'è il verde. Ok, bene. Ciao Riccardo, perché oggi sei venuto qua e per cosa firmi? Ciao, allora io sono venuto perché sono già stato qua anche per l'abbraccio alla Maura, per i 3500, sono andato in questo quartiere e vorrei difenderlo in generale per un equilibrio sia ambientale che di vivibilità, quindi sono tanti i motivi per cui anche la Maura che fa parte di questo quartiere debba essere ambientale e di vivibilità dei cittadini, quindi può essere sia lo stadio di Primis, che sarebbe un trauma sicuramente, ma anche a livello di speculazione edilizia, quindi ci credo e continuo a sostenere. Grazie mille. Ciao Michele, ciao Marianna, perché siete venuti qua oggi? Siamo venuti per firmare per evitare che venga deturpato il territorio in cui c'è la Maura, quindi per tutela della Maura. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Francesca, perché sei qua oggi? Per inserire la costruzione dell'estate sul mare verde. Ok, e come mai stai firmando? Per tutelare il verde della zona, uno dei motivi per cui abbiamo comprato casa qua è tutto il verde che c'è in tono. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.